Allora, partiamo dal riassunto esame di chimica e partirei dalle leggi principali, quelle fondamentali della chimica. Ho la prima legge che vorrei trattare, la legge della conservazione della massa. Come sappiamo, la legge della conservazione della massa è una legge ponderale e denuncia che, in una reazione chimica, la somma delle masse dei reagenti è uguale alla somma delle masse dei prodotti. Questa legge venne enunciata da Antoine Laurent de Lovaissière, che è stato un chimico e biologo, filosofo ed economista francese. Un'altra legge importantissima è la legge delle proporzioni definite. Questa legge delle proporzioni definite, invece, fu enunciata da Joseph Louis Prost nel 1799. È una legge che regola la formazione dei composti chimici a partire dagli elementi che li compongono. Essa recita, quando due o più elementi legiscono per formare un determinato composto, si combinano sempre secondo proporzioni in massa definite costanti. Ad esempio, il carbonato di rame, non il carbonio, scusate, qualunque fosse la sua origine naturale o preparato in laboratorio, che conteneva rame, carbonio e ossigeno sempre nelle stesse proporzioni. Quindi, secondo Prost, un composto è un prodotto privilegiato al quale la natura ha dato una composizione costante. Dopo Prost, scusate, Lavoisier, quindi la legge della conservazione della massa e la legge delle proporzioni definite, abbiamo John Dalt, che basò la sua teoria, basandosi, sulle scoperte sia di Lavoisier e Prost. Gli atomi sono particelle indistruttibili e unici per quanto riguarda la massa. Teoria che comunque, in seguito, con la scoperta degli isotopi, risultò inesalta. Poi un altro aspetto importante, sempre nella sintesi dell'evoluzione della chimica, abbiamo l'esperimento di Rutherford. L'esperimento di Rutherford è stato effettuato bombardando una lastra sottilissima di orio di circa 0,01 mm di spessore con particelle alfa. Le particelle alfa sono atomi radioattivi con la stessa massa di uno ione di elio. Andiamo un attimo ad interpretare l'esperimento di Rutherford. Allora, primo, quando una particella alfa passa davanti ad un elettrone, subisce una lieve deviazione. Se la particella alfa passa davanti al nucleo, subisce una forte deviazione. Se colpisce il nucleo, la particella alfa viene respinta. Quindi portò Rutherford a mettere in discussione il modello atomico a palettone di Thomson. E così propose il modello planetario. Modello atomico Innanzitutto andiamo a vedere per quanto riguarda il modello atomico che cosa bisogna determinare dal punto di vista delle particelle e quali sono i simboli che vengono utilizzati. Per esempio, A maiuscolo è uguale al numero della massa atomica. Il numero della massa atomica non è altro che il numero di protoni più il numero di neutroni. Quindi A uguale al numero di massa atomica che è dato dal numero di protoni più il numero di neutroni. Quindi i protoni sono cariche positive, i neutroni sono cariche neutre. Poi un altro simbolo che si utilizza per determinare la configurazione del lato sono Z maiuscolo che è il numero atomico. Il numero atomico che cos'è? Quindi abbiamo A che, come abbiamo detto, è il numero di massa atomica. Z che è il numero atomico la massa atomica, il numero di massa atomica è dato dal numero di protoni e dal numero di neutroni. Quindi protoni più neutroni. Z che è il numero atomico è dato dal numero di protoni. Il numero di protoni. Poi abbiamo N che è il numero di neutroni. N è il numero di neutroni. Quindi A, che sarebbe appunto il numero di massa atomica, è dato da Z più N. Poi abbiamo gli spin, spin elettroni. Spin in inglese significa rotazione. La rotazione dell'elettrone può essere anti-oraria, che è uguale meno un mezzo, oppure rotazione oraria, che è uguale più un mezzo, per definizione. Quindi un elettrone spaiato può avere uno dei due valori dello spin. La massa di un atomo è compresa tra 10 e 4, e 10 alla meno ventiquattesima. Numeri molto piccoli, quindi abbiamo detto numeri molto piccoli, quindi si è deciso di utilizzare in chimica un numero di massa atomica, l'UMA, che corrisponde a un dodicesimo della massa del carbonio 12. La massa del carbonio 12 è uguale a 1,926 per 10 alla meno ventitré grammi, che moltiplicato per un dodicesimo di questa massa, che è la massa del carbonio 12, è uguale a 1,6605 per 10 alla meno ventiquattesima d'Alton, che sarebbe appunto un dodicesimo della massa dell'atomo di carbonio. Allora andiamo a vedere che cosa significa definire definizione di particella in meccanica classica. La particella è uguale a massa per V, cioè un'onda elettromagnetica è formata da una lunghezza d'onda, da un'ampiezza e da una frequenza. Quindi l'energia di quest'onda elettromagnetica è data da H per V, dove H è la costante di Planck, che è 6,62 per 10 alla meno trentaquattesima joule secondo. L'energia d'onda elettromagnetica, l'energia di un'onda elettromagnetica, è inversamente proporzionale alla lunghezza d'onda. Quindi l'energia che contiene un quanto di luce è uguale, un quanto è dato da che cosa? Quindi l'energia di un quanto è dato E uguale a H per V, che è proporzionale alla lunghezza d'onda. L'energia che contiene un quanto di luce è uguale appunto a quello che abbiamo detto, è uguale a H per V, M per C4. In questo caso, avendo l'elettrone sia un comportamento di particelle che di corpuscolo, le due equazioni si equivalgono. Quando l'elettrone passa da uno stato energetico all'altro, assorbe un quanto di energia. Andiamo a vedere un attimo la teoria dei quanti. Marx Planck propose una teoria rivoluzionaria. diceva che le radiazioni emesse hanno un andamento discontinuo, cioè non possono assumere una qualsiasi valore, e quindi l'energia associata ad una radiazione elettromagnetica è proporzionale alla frequenza, dove la costante di proporzionalità è la costante di Planck, che è 6,026 per 10 alla meno trentaquattresima joule secondo. Adesso introduciamo il modello di Bohr. Bohr utilizzò sia la chimica classica che la fisica dei quanti per descrivere il modello atomico. Gli elettroni si muovono secondo orbite circolari e non tutti sono possibili. L'orbita dell'elettrone è stazionaria, cioè implica che l'energia dell'elettrone rimane invariata. Quindi è importante il concetto di energie stazionari, cioè che non varia. Quindi secondo le orbite circolari in tutti sono possibili. Quindi l'orbita dell'elettrone è stazionaria, cioè implica che l'energia dell'elettrone rimane invariata. quando l'elettrone passa da un'orbita a un'altra l'energia cambia di quantità pari al quanto di energia assorbita che è appunto E per H per V H abbiamo detto sarebbe la costante di Planck e V sarebbe la frequenza andiamo avanti allora adesso parliamo di numeri quantici i numeri quantici sono parametri che caratterizzano funzioni matematiche e sono definiti dai seguenti valori N è un numero quantico principale N determina la distanza dell'elettrone dal nucleo e le dimensioni dell'orbitale numero quantico secondario o azimutale è L che indica il momento angolare dell'elettrone e definisce la forma dell'orbitale numero quantico è L quindi N, L quindi numero quantico azimutale che indica il momento angolare dell'elettrone e definisce appunto la forma dell'orbitale poi abbiamo il numero quantico magnetico che è M e determina che cosa? l'orientamento spaziale degli orbitali quindi possiamo dire che L uguale 0 uguale S con L uguale 0 uguale S con L uguale 1 uguale P con L uguale 2 uguale D con L uguale 3 uguale F l'orbitale S si può contenere fino al massimo di 2 elettroni l'orbitale S appunto può contenere fino al massimo di 2 elettroni l'orbitale P può contenere al massimo 6 elettroni l'orbitale D può contenere al massimo 10 elettroni l'orbitale F può contenere al massimo 14 elettroni l'energia degli orbitali cresce con il crescere di N e L adesso vediamo il principio di esclusione del Paoli questo è un altro principio importante va ricordato perché lo troviamo in tutte le teorie della chimica il principio di esclusione del Paoli nello stesso orbitale cosa dice? dice che nello stesso orbitale non possono coesistere elettroni con tutti i numeri guantici uguali quindi in un solo orbitale possono coesistere solo due elettroni con numeri guantici magnetici e spin diversi poi abbiamo un'altra regola che si chiama la regola di Hund cosa dice la regola di Hund? quando due o più elettroni hanno a disposizione orbitali degenerati cioè con la stessa energia essi tendono ad occupare il massimo numero possibile disponibili spin paralleli e questo è importante perché se noi abbiamo per esempio l'orbitale P che è formato da orbitale PX, PZ e PY prima che gli orbitali si riempiono con due elettroni si devono riempire con elettroni paralleli quindi devono essere tutti e tre gli orbitali P devono essere riempiti almeno con un elettrone dopodiché gli orbitali si possono disporre con due elettroni all'interno di ogni orbitale man mano che si riempie appunto l'orbitale questa è la regola di Hund quindi quando due o più elettroni hanno a disposizione orbitali degenerati cioè con la stessa energia e si tendono ad occupare il massimo numero possibile disponibili di spin paralleli spin abbiamo detto significa in inglese rotazione poi abbiamo la regola dell'ottetto il livello più esterno non può ospitare più di otto elettroni i quali si distribuiscono tra gli orbitali S e P tranne l'elio e l'idrogeno quindi ripeto, regola dell'ottetto il livello più esterno non può ospitare più di otto elettroni i quali si distribuiscono tra gli orbitali S e P tranne l'elio e l'idrogeno altra regola gli atomi del diciottesimo gruppo sono chiamati gas nobili tutti gli atomi tendono a raggiungere la stabilità di un gas nobile ossia raggiungere il livello energetico completo gli atomi naturali presenti nella tavola periodica sono 92 e sono suddivisi in quattro blocchi blocco S, blocco P, blocco D e blocco F le proprietà periodiche degli elementi sono le seguenti andiamo a vedere quali sono le proprietà periodiche raggio atomico elettronegatività energia di ionizzazione affinità elettronica punto di ebollizione e solidificazione queste diciamo sono le principali come dire proprietà periodiche degli atomi non è possibile misurare il raggio di un atomo isolato solo quando gli atomi formano un solido o delle molecole i loro centri sono equidistanti e misurabili il raggio atomico può essere definito come la distanza dell'elettrone più esterno dal nucleo e si misura in nanometri nanometro un nanometro è uguale a 10 alla meno 9 metri come varia il raggio atomico lungo il gruppo e il periodo? allora diciamo che la distanza dell'elettrone dipende essenzialmente dal numero quantico principale n quindi diminuisce lungo il periodo e aumenta lungo il gruppo quando gli atomi hanno un numero diverso di protoni si chiamano ioni gli ioni positivi diminuiscono il raggio atomico e gli ioni negativi che acquistano elettroni aumentano il raggio atomico energia di ionizzazione allora l'energia di ionizzazione I è l'energia minima necessaria per rimuovere un elettrone nello stato gassoso nelle condizioni di minima energia a secondo se rimuove un singolo elettrone o due o più elettroni avremo energia di prima, seconda, terza eccetera ionizzazione lungo il periodo l'energia di ionizzazione aumenta ed è massima dei gas nobili l'energia di ionizzazione è minima nei metalli alcalini, terrosi, primo e secondo gruppo diminuisce lungo il gruppo lungo il gruppo a causa di minore forze di attrazione degli elettroni da parte del nucleo affinità elettronica affinità elettronica AE degli elementi è la quantità di energia rilasciata in fase gassosa nel suo stato di minima energia acquisendo uno o più elettroni l'affinità elettronica diventa più favorevole da sinistra a destra nella tavola periodica e diventa massimo nel blocco P il fuoro ha la più alta affinità elettronica ed è anche l'atomo più elettronegativo l'elettronegatività e l'elettronegatività che cos'è l'elettronegatività? l'elettronegatività rappresenta l'abilità di un atomo ad avere ad attrarre, scusate, verso il suo nucleo gli elettroni di valenza dell'atomo più elettropositivo in un legame chimico l'elettronegatività dipende dall'energia di ionizzazione e dall'affinità elettronica se un atomo ha una bassa energia di ionizzazione forma più facilmente un catione se ha un'alta energia di ionizzazione soprattutto gli atomi a destra della tavola periodica formano degli anioni cioè atomi negativi la differenza ioni negativi anioni, ioni negativi cationi, ioni positivi la differenza di elettronegatività è data da che cosa? da xA-xB e identifichiamo il valore dell'elettronegatività con delta x cioè variazione o differenza di elettronegatività se A e B sono lo stesso elemento abbiamo xA uguale xB dove xB uguale 0 l'elettronegatività del fluoro della scala del Paolo è uguale 4 adesso parliamo un attimo del legame chimico legame chimico allora il legame chimico può essere legame ionico legame covalente legame metallico o innanzitutto parliamo un po' della teoria di Lewis prima di approfondire il legame questa infatti fa parte della teoria di Lewis legame ionico si avviene il trasferimento di uno o più elettroni dall'atomo più elettronegativo esempio NACL il legame è detto covalente se deriva da una condivisione di elettroni quindi ionico se c'è un trasferimento di elettroni tra l'atomo all'atomo più elettronegativo covalente se c'è una condivisione di elettroni per spiegare meglio il legame ionico potremmo trattare il ciclo di Born-Haber nella formazione del cloro del cloruro di sodio per esempio nella formazione del cloruro di sodio possiamo analizzare appunto il ciclo di Born-Haber l'atomo di sodio rispetto all'atomo di cloro che fa parte del primo gruppo o anzi del primo blocco S è un atomo più elettropositivo rispetto al cloro che si trova al 17esimo gruppo degli alogeni atomi che formano sali e quindi c'è dell'elettrone in questo legame sono coinvolti tre forme di energia energia di prima ionizzazione affinità elettronica energia reticolare alla fine di tale reazione si forma un solido ionico e viene rilasciata una grande quantità di energia legame covalente il concetto di legame covalente è stato introdotto dal Gilbert Lewis il legame covalente è dato da una condivisione di una coppia o più coppie di elettroni condivisa tra due atomi o più atomi il successo di questa teoria fu appunto anche la spiegazione delle molecole biatomiche tipo l'ossigeno l'idrogeno l'azoto ecc in questi tipi di atomi delta x cioè la variazione di elettronegatività è uguale a zero questo tipo di legame si chiama appunto legame covalente omopolare omopolare cioè tra atomi che hanno praticamente la stessa elettronegatività possiamo anche affermare che se due atomi hanno delta x minore di 0,4 il legame è apolare se l'elettronegatività è superiore a 0 è compreso scusate tra 0,4 e 2 il legame covalente polare il legame covalente si realizza tra atomi con il delta x molto bassa o nulla quindi delta x quando parliamo di delta x parliamo di differenze di elettronegatività legame metallico è il legame dei metalli solidi dove ogni atomo è legato a numerosi atomi adiacenti gli elettroni di valenza sono relativamente liberi di muoversi nella loro struttura tridimensionale il legame chimico va approfondito sotto due aspetti primo modello di geometria molecolare VSPR che significa modello di geometria molecolare VSPR l'acronimo VSPR l'acronimo VSPR significa Valence Shell Electron Power for Repulsion Valence Shell Electron for Repulsion c'è la teoria della repulsione del doppietto elettronico nel guscio di valenza sempre poi nel concetto di approfondimento del legame chimico abbiamo l'ibridazione o concetto di sovrapposizione degli orbitali i doppietti elettronici sia quelli di legame liberi si dispongono il più lontano possibile per minimizzare la repulsione per esempio l'ammoniaca geometria trigonale quindi se ti chiedono l'ammoniaca NH3 che è geometria A una geometria trigonale ha un doppietto elettronico libero e forma una geometria trigonale piramidale angoli di legame 107,3 i doppietti liberi influenzano l'ampiezza degli angoli di legame la geometria tetraedrica per esempio nel metano gli angoli di legame sono di 109,5 nel tretacloruro di carbonio per esempio abbiamo sempre 109,5 l'acqua ha due doppietti liberi e i due legami di idrogeno formano un angolo di 107,3 gli orbitali ibridi andiamo a vedere il concetto di orbitali ibridi allora faccio presente che questo è tutto un riassunto breve che dura circa 120 minuti da questo riassunto poi andrò a sviluppare tutti gli argomenti trattati quindi abbiamo parlato del modello di geometria molecolare VSPR che cos'è ibridazione e il concetto di sforoposizione degli orbitali adesso parliamo degli orbitali ibridi che cosa sono gli orbitali ibridi l'ibridazione degli orbitali procede attraverso una ricombinazione degli orbitali fondamentali degli orbitali fondamentali SPD formando nuovi orbitali chiamati orbitali ibridi con proprietà direzionali e forme nuove attraverso l'ibridazione si formano ibridi isoenergetici cioè di uguale energia l'ibridazione SP2 dà un mescolamento di orbitale S e due orbitali P l'ibridazione SP3 un orbitale S e tre orbitali P l'ibridazione SP3 determina la geometria molecolare tetraetica ma l'ibridazione SP3 possono anche trovarla in una geometria trigonale come per esempio l'ammoniaca è importante o una geometria dimensionale come l'acqua poi abbiamo legame sigma e legame pi greco se c'è una sovrapposizione lungo gli assi passanti per i nuclei con l'aumento della densità elettronica tra due nuclei si parla di legame sigma il legame pi greco invece avviene lateralmente perpendicolarmente sopra e sotto il piano che contiene i due nuclei il legame pi greco esiste solo in presenza dei legami sigma per esempio il legame sigma possiamo trovarlo nel legame tra molecole biatomiche come l'ossigeno molecolare teoria del legame di valenza e degli orbitali molecolari il legame di valenza deriva da un'interpretazione quanto meccanica della teoria di Gilbert Lewis nella teoria di Gilbert Lewis si parla di una condizione di un doppietto elettronico tra due atomi tale teoria di legame di valenza Fubi un legame di valenza avviene quando vi è una sovrapposizione di orbitale legame covalente quindi legame covalente concetto di legame di orbitale molecolare una seconda teoria altrettanto valida che considera l'orbitale molecolare che contengono tutti i nuclei degli atomi della molecola e gli elettroni andranno a sistemarsi come gli orbitali atomici condizioni in cui si può verificare un legame di valenza un orbitale di un atomo e l'orbitale di altri si sovrappongono il numero complessivo contenuto nei due orbitali deve essere uguale a 2 forze intermolecolari per quanto riguarda le forze intermolecolari abbiamo forze di polo di polo forze di london con molecole apolari legame idrogeno leggi dei gas abbiamo la legge isoterma temperatura costante legge di boil il volume è inversamente proporzionale alla pressione e si rappresenta con iperbole leggi sobora pressione costante legge di Charles Lussac volume è direttamente proporzionale alla temperatura quindi temperatura fratto volume uguale TS fratto V legge di Amedeo Avogadro il volume di un gas a temperatura costante e a pressione costante direttamente proporzionale al numero di moli quindi queste diciamo sono in breve le leggi dei gas le leggi dei gas di Gay Lussac quindi la legge di Sobora di Sobora di Sobora quindi ripetiamo abbiamo dunque per quanto riguarda la teoria dei gas abbiamo la legge di allora abbiamo a temperatura costante isoterma poi abbiamo temperatura T uguale costante poi Isopora T pressione uguale costante e poi abbiamo la legge di Amedeo Avogadro che dice che a temperatura costante a pressione costante il volume del gas e a temperatura costante a pressione costante è direttamente proporzionale al numero di molecole presenti in una mole di quel gas Stato fisico della materia Il volume di una certa quantità di materia varia al variare della temperatura e della pressione i gas i liquidi in chimica sono definiti fluidi i fluidi sono caratterizzati dalla facilità con cui diverse parti possono scorrere le une sulle altre il passaggio da uno stato all'altro dipende da che cosa dipende dalla variazione della temperatura e della pressione e determina la rottura dei legami intermolecolari e intramolecolari Il volume è una variabile dipendente dalla pressione e dalla temperatura e dal numero di moli Per quanto riguarda i gas possiamo affermare che una massa densità dei gas determina una bassa pressione un'alta densità dei gas determina un'alta pressione forza superficie Ho un'altra legge importante da conoscere la legge di Dalton sulle pressioni parziali quando due gas vengono mescolati in un unico recipiente la pressione esercitata dei gas è data dalla somma delle pressioni parziali secondo l'equazione dei gas ideali sappiamo che l'equazione dei gas ideali è uguale P per V uguale N per N per T N che è P cioè la pressione per il volume è data da che cosa dalla dal prodotto della costante dei gas R per il numero di numero di moli e T la temperatura quindi ripetiamo quando due gas vengono mescolati questo qui è la legge è il principio della legge di Daltron sulle pressioni parziali delle pressioni parziali quando due gas vengono mescolati in un unico recipiente la pressione esercitata dai gas è data dalla somma delle pressioni parziali secondo l'equazione dei gas ideali possiamo calcolare che le pressioni parziali di un generico componente A è data dalla pressione totale moltiplicando le frazioni molari dello stesso componente quindi se io devo determinare la pressione di A abbiamo la pressione totale uguale pressione 1 più pressione 2 più pressione 3 se si vuole conoscere le pressioni parziali di un componente si ha pressione I NI fratto N cioè la frazione molare in pratica nota la pressione totale di una miscella di gas se non è nota si può misurare la pressione parziale di uno qualsiasi componente della miscella è sempre calcolabile moltiplicando la pressione totale moltiplicando appunto la pressione totale per la frazione percentuale del componente quindi se io conosco la frazione molare del componente e la pressione totale se io voglio conoscere la pressione parziale di quel componente basta moltiplicare la pressione totale per la frazione molare di quel componente. Quindi possiamo dire che una mole di gas perfetto occupa 22,4 litri a condizioni standard. I solidi e gas rappresentano due fasi estreme della materia. Un fluido rappresenta una fase intermedia simile ai solidi che ai gas. Nei liquidi la forza attattiva intermolecolare è maggiore dell'energia cinetica. A differenza dei gas nei liquidi e nei liquidi, le forze intermolecolari giocano un ruolo molto importante. Proprietà legate alle forze di Van der Waals. All'aumento delle forze di Van der Waals si ha un aumento della variazione di entalpia, occorre più energia per separare le molecole. Aumento della temperatura di ebollizione, diminuisce la tensione di vapore. Allora, il punto di ebollizione aumenta con l'aumentare della massa molecolare. Il punto di ebollizione aumenta con l'aumentare della massa molecolare. Quindi l'equilibrio liquido-vapore, ogni liquido messo in un recipiente chiuso tende ad evaporare e la velocità della quale passa dallo stato liquido a quello di gas dipende dal punto di ebollizione. Quanto è più basso il punto di ebollizione, tanto è più alta la velocità della sostanza. Il liquido chiuso in un recipiente a pressione e a temperatura costante, dopo un po' instaura un equilibrio dinamico tra le molecole che evaporano e le molecole che tornano al liquido. Questo equilibrio dinamico genera una pressione sulla superficie del liquido, che si chiama appunto, questa pressione, tensione di vapore. La tensione di vapore aumenta con l'aumentare della temperatura e della pressione. Quindi la tensione di vapore, che è la pressione esercitata sul liquido stesso, la pressione esercitata dal vapore sul liquido stesso a condizioni standard, la tensione di vapore aumenta con l'aumentare della temperatura e della pressione. L'ebollizione avviene quando la tensione di vapore è uguale alla pressione atmosferica. Quindi quando la pressione di vapore è uguale alla pressione atmosferica. Adesso andiamo a vedere un attimo delle proprietà importanti, che sono le proprietà colligative. Quali sono le proprietà colligative? Sono tensione di vapore, osmosi, abbassamento crioscopico, innalzamento ebulioscopico. Quindi, ripeto, quali sono le proprietà colligative? Sono primo tensione di vapore, due osmosi, tre abbassamento crioscopico, quattro innalzamento ebulioscopico. Concentrazione delle soluzioni. La concentrazione delle soluzioni vengono, possiamo determinare attraverso la molalità, che è il numero di moli per litro di soluzione. La molalità, che sono il numero di moli di soluto in un chilogrammo di solvente. Molalità. Percentuale in massa, massa di soluto, massa soluzione. Percentuale in volume, che cos'è la percentuale in volume? Volume soluto sul volume della soluzione. Frazione molare, moli di soluto, fratto moli di soluto più moli di solvente. Le soluzioni sono sistemi più semplici a più componenti costituiti da un'unica fase, che è la fase solida, liquida o gassosa. Le soluzioni sono sistemi omogeni, in cui l'omogeneità va intesa a livello macroscopico, cioè per volumi non eccessivamente piccoli. Tipi di soluzioni. Soluzioni gassose, si chiamano miscele gassose e sono sempre omogenee. Soluzioni liquidi. Il simile scioglie sempre il simile. L'acqua è uno dei solventi più importanti. Scioglie composti ionici, molecolari, polari, a bassa concentrazione anche molecolari e gassosi. I solventi possono essere di natura organica o inorganica. Soluzioni solido-solido. Si formano sciogliendo i solidi e successivamente raffreddando. Ad esempio, le leghe sono soluzioni. Solido-solido. Ferro più carbonio uguale acciaio. Rame più stagno, bronzo. Ottone. 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 Rame più zinco. I gassi polari hanno bassa solubilità in acqua. Ad esempio, azoto molecolare N2 e O2. Adesso vediamo che cos'è la legge di Rolth. La legge di Rolth, poi vedremo, la troviamo soprattutto nei calcoli delle proprietà collegative. La legge di Rolth, la tensione di vapore, cosa dici? Dice che la tensione di vapore del solvente in presenza di un soluto non volatile è proprio in presenza di un soluto non volatile, è proporzionale alla frazione molare del solvente stesso. Quindi la legge di Rolth descrive la variazione della tensione di vapore di un solvente puro aggiungendo un soluto. È proporzionale. Cioè, che significa? Significa che la tensione di vapore può aumentare o diminuire a secondo della quantità di soluto. Ok, diciamo questa prima parte la chiudiamo al punto 45 dell'introduzione dell'esame di chimica inorganica. Adesso, punto 45 dell'introduzione dell'esame di chimica inorganica, parliamo al numero 46, scusate, definizione e pressione esmodica, che fa parte appunto delle quattro proprietà collegative. Quindi la pressione osmodica è la pressione necessaria per porre fine al flusso netto del solvente attraverso una membrana semipermeabile. La pressione osmodica è proporzionale alla concentrazione molare del soluto nella soluzione ed è data da che cosa? Da pi greco uguale I per R per N per T fratto V. Quindi per quanto riguarda la definizione, la pressione osmodica. Quindi ripetiamo, la pressione osmodica è la pressione necessaria per porre fine al flusso netto del solvente attraverso una membrana semipermeabile. La pressione osmodica appunto è data ed è proporzionale alla concentrazione molare del soluto nella soluzione. Quindi pi greco per I per N per N per T fratto V, dove I è un coefficiente, R è praticamente la costante dei gas ideali, N è il numero di moli, T è la temperatura e V è il volume. Abbassamento crioscopico. Abbassamento crioscopico della temperatura di solidificazione. Abbassamento crioscopico è il passaggio da un punto di crioscopico a un altro in base all'aggiunta di un soluto all'interno di una soluzione. Innalzamento ebulioscopico significa innalzamento del punto di ebollizione. Poi abbiamo la costante crioscopica, la costante crioscopica, K, Cere, che significa costante crioscopica, l'unità di misura della costante crioscopica, che è data dai gradi, cioè quindi dalla temperatura, per la massa fratto il volume. Poi abbiamo la costante crioscopica che è data K e B, cioè costante crioscopica, e l'unità di misura è data appunto dalla temperatura espressa in gradi centigradi per la massa fratto il volume. La variazione della temperatura crioscopica da che cosa è data? È data dalla costante crioscopica, dalla costante crioscopica, per M, che sarebbe praticamente la molalità. Chimica cinetica. La chimica cinetica è il ramo che studia la velocità con cui decorano le reazioni chimiche. Per una reazione chimica la velocità di reazione è data da che cosa? È data dalla variazione della concentrazione di una sostanza divisa per il tempo in cui tale trasformazione si compie. Quindi possiamo definire la velocità, variazione, concentrazione molare fratto tempo impiegato. E possiamo scrivere in termini matematici delta per la concentrazione molare della massa del reagente fratto la variazione di temperatura. Quindi la velocità di una reazione chimica può essere calcolata indipendentemente partendo sia dai prodotti che dai reagenti. prodotti. Bisogna però tener conto che al procedere della reazione, quindi al procedere della reazione chimica, cioè dai reagenti ai prodotti, la concentrazione dei reagenti diminuisce. Quindi possiamo dire che la reazione della concentrazione è minore di zero e che la concentrazione dei prodotti aumenta. Quindi la variazione della concentrazione è maggiore di zero. Quindi man mano che la reazione procede la velocità cambia, quindi bisogna stare attenti al concetto di velocità. La velocità media di una reazione C2 meno C1 fratto T2. Quindi diciamo che è data dalla velocità C2, la concentrazione scusate C2, meno la concentrazione C1 fratto il tempo T2 meno T1. Quindi una reazione è un equilibrio chimico, una reazione è un equilibrio chimico quando le due velocità dirette, quindi la velocità diretta e la velocità inversa, sono uguali. Cioè che significa questo? Significa che la velocità di reazione è una grandezza intensiva, cioè non dipende dalla quantità di massa dei reagenti. Quindi l'equazione cinetica è una relazione matematica che lega la velocità in una data reazione nella concentrazione molare dei reagenti. Quindi ripetiamo, la concentrazione, la reazione chimica è in equilibrio, la velocità di reazione chimica è in equilibrio quando la velocità diretta è uguale alla velocità inversa. Che significa questo? Significa che la quantità di reagenti che si trasformano in prodotti è uguale alla quantità di prodotti che si trasformano i reagenti. Fattori che influenzano la velocità di reazione quali sono? Sono natura chimica dei reagenti, capacità dei reagenti di venire a contatto reciproco, 3 concentrazione dei reagenti, temperatura e presenza di catalizzatori. Quando si verifica una reazione chimica? Una reazione chimica tra due reagenti si verifica in seguito ad un incontro-scontro, a un incontro-scontro delle molecole di reagenti. Ciò induce a pensare che la velocità di una reazione sia proporzionale alla concentrazione dei reagenti, all'aumentare dei reagenti aumentano la probabilità di incontrarsi. La temperatura fa aumentare la velocità di reazione. Teoria del complesso attivo. Quando due dei reagenti si trovano ad una brevissima distanza hanno raggiunto un massimo di energie di disordine, cioè di entropia, dove è sufficiente una minuscola distorsione per avviare il senso dei prodotti e la reazione chimica. Questa cruciale configurazione viene detta complesso attivo, AB, che si separa nei prodotti ad una certa velocità K. Una reazione chimica può avvenire, stiamo parlando in questo caso della teoria degli urti, una reazione chimica può avvenire, 1, se il numero degli urti è abbastanza elevato, 2, se questi avvengono con l'orientamento corretto, 3, se l'energia è sufficiente per portare gli atomi alla distanza di legame. Il complesso attivo, quindi, è una fase di transizione tra i reagenti e i prodotti. L'equilibrio chimico. All'equilibrio chimico la velocità di formazione è uguale alla velocità inversa. La concentrazione di tutte le specie di reagenti e prodotti non varia nel tempo, cioè quindi rimane costante. L'equilibrio è un tipo dinamico, è di tipo dinamico, cioè all'equilibrio chimico la velocità di reazione è nulla, perché la concentrazione dei reagenti e prodotti non variano. A temperatura, logicamente, è pressione costante. Al punto di equilibrio, i reagenti e prodotti hanno la stessa energia libera, cioè l'energia libera che è data appunto da che cosa? Da H, che è praticamente l'entalpia, meno la temperatura per l'entropia. In questo caso possiamo introdurre la legge di azione di massa, dove Kp, costante termodinamica di equilibrio, meno Kc, uguale costante della concentrazione molare. La costante termodinamica di equilibrio considera i reagenti allo stato cassoso. La costante viene calcolata nel seguente modo. Prodotto delle pressioni dei prodotti elevati al coefficiente stichiometrico fratto le pressioni dei reagenti elevati al loro coefficiente stichiometrico. Ripeto, la costante di equilibrio termodinamica è data dal prodotto dei reagenti elevati ai coefficienti stichiometri stichiometrici fratto il prodotti, no scusate, ho sbagliato. Allora, la costante termodinamica è data dal prodotto dei coefficienti elevati ai coefficienti stichiometrici fratto il prodotto dei reagenti elevati ai coefficienti stichiometrici. Logicamente anche questo a pressione e a temperatura costante. Quindi in questo caso abbiamo la... questo fa parte della legge di azione di massa dei reagenti e dei prodotti. Logicamente questa espressione possiamo esprimerla anche in termini di che cosa? In termini di concentrazione molare. Per quanto riguarda la costante della concentrazione molare possiamo... si possono verificare tre casi. Prima che la costante della concentrazione sia maggiore di 1, la reazione è spostata verso i prodotti, che la costante della concentrazione sia uguale a 1, la reazione in quel caso è... la costante di equilibrio è uguale a 1 e ciò significa che la reazione è in equilibrio. la costante è minore di 1 e quindi significa che la reazione è spostata verso i reagenti. Parliamo del principio di Chatelier. Che cosa è il principio di Chatelier? Il principio di Chatelier cosa dice? Se in un sistema in equilibrio viene perturbato, quindi se un sistema in equilibrio viene perturbato, la posizione dell'equilibrio si sposta nella direzione che tende a ristabilire le condizioni di equilibrio. Quindi lo stato di equilibrio si può alterare se vengono modificate le condizioni di temperatura e pressione e concentrazione dei prodotti e dei reagenti. Quindi ripetiamo il principio di Chatelier che è molto importante soprattutto quando andiamo a considerare determinate reazioni chimiche. Cosa dice? Se un sistema in equilibrio viene perturbato, la perturbazione del sistema possiamo ottenerlo attraverso un cambiamento di temperatura e di pressione o con l'aggiunta o con l'aumento o la diminuzione di una concentrazione, per esempio, di un determinato sistema. Lo stato di equilibrio si può alterare se vengono modificate queste condizioni di temperatura, pressione e concentrazione di prodotti e di reagenti. Ma possiamo dire che nel momento in cui vengono alterate, cosa succede? Succede che l'equilibrio perturbato, quindi dove è stato perturbato, la posizione dell'equilibrio si sposta nella direzione che tende a ristabilire le condizioni di equilibrio precedenti. Adesso parliamo della dissociazione dell'acqua. Una piccola quantità di ioni che contiene l'acqua, pura, è data da un fenomeno chiamato di autoionizzazione. L'autoionizzazione rappresenta circa due molecole su un miliardo di molecole per litro. Il numero di ioni H+, e il numero di ioni OH-, viene espressa in moli litro e viene indicato con il simbolo tra parentesi quadra, H+, o OH-, tra parentesi quadra. La quantità di molecole che vengono ionizzate a temperatura costante, quindi a condizioni standard, che abbiamo detto corrisponde a circa due molecole su un miliardo di molecole, è di 1, espressa in notazione scientifica, di 1 per 10 alla meno 7. Quindi, in una condizione di neutralità, possiamo dire che gli ioni dissociati di OH- e di OH+, sono identici, sono uguali, quindi ciò significa che gli ioni di H+, dissociati a 1 per 10 alla meno 7, e gli ioni dissociati di OH- è uguale a 1 per 10 alla meno 7. Il prodotto ionico dell'acqua, invece, è dato da che cosa? È dato dal prodotto di questi ioni dissociati, cioè di H+, OH-, quindi 1 per 10 alla meno 7, per 1 per 10 alla meno 7, che dà il prodotto di dissociazione ionica, che è 1 per 10 alla meno 14. Il simbolo del prodotto ionico dell'acqua, quindi il K-Water, è dato appunto da K-W. Il pH è determinato da che cosa? Dal logaritmo negativo degli ioni H+, e il POH, invece, è determinato dal logaritmo negativo di l'io H-. In base a questi semplici concetti, possiamo andare a determinare i vari metodi per definire una sostanza acida o una sostanza basica. Fondamentalmente abbiamo tre modelli, che va dal più semplice, quello di Arrhenius, al quello un po' più articolato di Brossett e Lowry, fino ad arrivare al modello di Levis. Il modello di Arrhenius dice semplicemente che vengono definite sostanze acide in soluzione a cosa tutte quelle sostanze che liberano gli ioni H+, e vengono definite sostanze basiche in soluzione acquosa tutte quelle sostanze che liberano l'H-. Logicamente, come ci viene, diciamo, come si può intuire, questa definizione è molto semplicistica, perché esclude dalla classificazione di sostanze acide e sostanze basiche tante altre sostanze, che poi vedremo, tipo per esempio l'antidride carbonica, e poi diciamo che il modello di Arrhenius risale alla fine dell'Ottocento, diciamo, il modello di Arrhenius. Subito dopo fu elaborato il modello di Brossett e Lowry, anzi, Brossett e Lowry elaborarono un nuovo modello per definire appunto il concetto di acidità, di basicità, e questo avvene nel 1923. I due chimici definiscono acido una sostanza che dona protoni, cioè H+, perché li definisce protoni Brossett e Lowry, perché li definiscono protoni H+, perché, logicamente, intanto, l'atomo di idrogeno, una volta che cede l'elettrone, in effetti, avendo un solo elettrone, significa, possiamo definirlo protone. Poi vedremo che comunque l'atomo di idrogeno non può esistere singolo nell'acqua ionizzata, ma l'atomo di idrogeno si accoppia a una molecola di acqua a formare uno ione di idronio, per esempio, H3O+. Quindi Brossett e Lowry definiscono acido una sostanza che dona protoni H+, a un'altra specie chimica, e definiscono base una sostanza che accetta protoni da un'altra specie chimica. Quindi viene introdotto il concetto di acido e base coniugata e base acido coniugato. E soprattutto, come vedremo, l'acqua è una sostanza particolare, l'acqua come poche altre sostanze, è una sostanza particolare perché può comportarsi in alcune condizioni da acido e in altre condizioni da base. Quindi si definisce generalmente l'acqua una sostanza anfiprotica. Quindi dopo il modello di Arenius e dopo il modello di Brossett e Lowry abbiamo infine un modello più innovativo e soprattutto che ha la possibilità di allargare il concetto di acido anche da altre sostanze. Noi sappiamo fondamentalmente che gli acidi di Arenius sono gli stessi degli acidi di Brossett e Lowry. Esempio, l'acido cloridrico è un acido secondo il modello di Arenius è un acido secondo il modello di Brossett ma poi vedremo che è anche un acido secondo il modello di Lewis o per esempio che ne so l'idrossio di potassio l'idrossio di potassio è una base secondo il modello di Arenius è una base secondo il modello di Brossett e Lowry ma è anche una base secondo il modello di Lewis. Cosa dice Lewis? Dice che un acido è un accettatore di una coppia di elettroni inoltre secondo Lewis sono basi tutti gli agnoni che presentano coppie libere o elettroni quindi sono acidi tutti i cationi e i composti che hanno orbitali di valenza vuoti esempio l'ammoniaca noi sappiamo che l'ammoniaca viene definita base secondo il modello di Brossett perché? Perché è un accettatore di protoni quindi l'ammoniaca che in soluzione acquosa NH3 diventa NH più accettando un ione protonico dall'acqua quindi da base diventa acido coniugato e l'acqua che cede l'elettrone all'ammoniaca da acido diventa base coniugata quindi abbiamo detto l'ammoniaca che innanzitutto ha un doppietto elettronico libero che si accoppia con il trifloro di boro con orbitale di valenza vuoto allora adesso parliamo un attimo del concetto di acidi e basi forti allora possiamo definire un acido forte una base forte quando in soluzione acquosa i composti acidi o basici si dissociano completamente un esempio di acido forte e base forte sono l'acido cloridrico e l'idrossio di sodio gli acidi e basi forti a differenza degli acidi delle basi forti gli acidi e le basi deboli sono parzialmente dissociati in soluzione acquosa stabiliscono un equilibrio o quindi per quanto riguarda gli acidi e basi deboli occorre determinare una costante che si chiama appunto costante di dissociazione acida un acido debole indicato generalmente da H A in soluzione acquosa stabilisce il seguente equilibrio di ionizzazione acida H che è uguale a H3O più più A meno quindi si forma uno ione idronio più un anione applicando la legge di azione di massa si definisce la costante di ionizzazione acida come come H3O più che moltiplica catione A meno fratto la concentrazione dell'acido quindi ad ogni acido debole è associata una costante di ionizzazione acida o prodotto della costante di ionizzazione acida possiamo dire che la costante acida ci fa capire il grado di dissociazione dell'acido in esame i sali possono essere considerati come prodotti di neutralizzazione la costante acida è data da la costante water fratto la costante basica e la costante basica è data dalla costante water fratto la costante acida adesso parliamo della soluzione tampone un tampone è una soluzione che varia in maniera trascurabile il proprio pH in seguito all'aggiunta di una base o di un acido anche forte le soluzioni tampone sono molto importanti a livello biologico per esempio il sangue è una soluzione tampone il suo pH che è di circa 7,4 la sua funzione ha la funzione di trasportare ossigeno risulterebbe compromessa se il valore del pH dovesse cambiare quindi la soluzione tampone è importante soprattutto per alcuni fenomeni biologici prodotto di solubilità la solubilità è la quantità massima che si può sciogliere di un soluto quindi di un soluto in un solvente una data quantità di solvente ad una determinata temperatura e pressione e si tratta quindi se si tratta logicamente di che cosa di un soluto gassoso non sempre con l'aumento della temperatura c'è un aumento della solubilità non c'è non c'è sempre un aumento della solubilità considerando un sale poco solubile per esempio un sale ipotetico AB possiamo considerare due possibilità primo la parte disciolta è completamente disciolta ioni AB meno e A più due che la parte disciolta è presente anche sotto forma molecolare nel nostro studio faremo riferimento solo al primo caso cioè dove il soluto si discioglie quindi dove possiamo scrivere che la costante di solubilità è data da che cosa è uguale alla concentrazione ionica di che cosa dei soluti dei ioni ok AB quindi cationi e anioni fratto la concentrazione ionica del sale prodotto di solubilità alla temperatura utilizzata KPS si chiama KPS prodotto di solubilità il KPS in una soluzione satura di un composto ionico poco solubile il prodotto delle concentrazioni molate degli ioni ciascuno elevato alla potenza è uguale a che cosa al coefficiente stichiometrico nell'equazione di solubilizzazione ed è costante ad ogni data temperatura se gli ioni che si formano in soluzione non prendono parte alla reazione di trolisi è possibile correlare il prodotto di solubilità alla solubilità del sale quindi possiamo dire che il KPS è strettamente correlato quindi il prodotto di solubilità è strettamente correlato alla solubilità S del sale S uguale quantità massima di sale che può essere sciolta in una data quantità di solvente a una determinata temperatura adesso introduciamo un altro concetto che è il numero di ossidazione che cosa è il numero di ossidazione il numero di ossidazione rappresenta la carica reale o formale che acquista un atomo quando si attribuiscono gli elettroni di legame all'atomo più elettronegativo ossidi uguali ossigeno più metallo idrossidi metallo più ossigeno più idrogeno acidi ossigenati vengono definiti ossiacidi quindi anidride più acqua idracidi sono allogeni zolfo più idrogeno i sali sono determinati dal metallo più un acido uguale sale più idrogeno metallo più un non metallo è un sale redox ossido più acido sale idrossido più anidride sale più acqua come si bilancia una reazione redox come si bilancia una reazione redox con la reazione di ossio riduzione si intende una vasta classe di reazioni che si implicano un trasferimento di elettroni più o meno evidente esempio è evidente quando è scritta in forma ionica quando le reazioni sono scritte in forma neutra ma non è evidente quando sono scritte in forma neutra una sostanza ridotta acquista elettroni una sostanza ridotta acquista elettroni una sostanza ossidata cede elettroni questo è un concetto importante quindi una sostanza ridotta acquista elettroni una sostanza ossidata cede elettroni se noi per esempio facciamo un esempio che ne so l'ossido di potassio l'ossido di potassio che è K2O cosa succede? Il potassio cede elettroni all'ossigeno, quindi il potassio è ossidato e l'ossigeno è ridotto in genere. Quindi possiamo dire che a ogni reazione di ossidazione c'è una reazione di riduzione. Adesso introduciamo un altro concetto, sempre che andremo a studiare poi nell'approfondimento, che la branca della chimica che si occupa, che si occupa delle reazioni chimiche in cui viene coinvolta energia, viene definita elettrochimica. Allora possiamo avvenire, possiamo far avvenire le reazioni redox in un'apparecchiatura controllata, questa apparecchiatura è controllata, è detta cella elettrochimica o pila. Le celle elettrochimiche si classificano in due tipi, cellule elettrolitiche e cellule voltaiche o cellule calvaniche, o voltaiche o calvaniche, possono essere chiamate in tutti e due modi. La cella elettrolitica usa l'energia elettrica per far avvenire una reazione non spontanea, quindi nelle reazioni di cella l'energia elettrica fornita da una sorgente esterna serve per trasformare i reagenti in minore contenuto di energia, in prodotti con più energia. La cellula voltaica invece usa una reazione spontanea per generare energia elettrica, quindi nella reazione di cella la differenza di energie tra i reagenti e i prodotti si trasforma in che cosa? In una produzione di energia elettrica. Celle calvaniche o pile, se mettiamo una lamina di zinco in una soluzione di solfato di rame, che è di colore blu dovuta ad un complesso di rame con l'acqua, si ha che la lamina di zinco si ricopre di una polvere rosso mattone, avviene a seguito della reazione chimica tra il zinco più i rami, ciò più, quindi c'è una reazione di ossido riduzione, redox. Diciamo che con questo argomento, cioè delle cellule calvaniche e delle cellule elettrolitiche, si conclude la fase introduttiva per quanto riguarda la chimica teorica e vorrei soltanto ricordare il formulario che andremo ad ad operare nella trattazione, diciamo, della parte pratica della chimica inorganica. Allora, partiamo dal primo, che zeta, numero atomico o numero di protoni, n numero di neutroni, a è uguale n più zeta che è il numero di massa atomica, il numero degli elettroni allo stato fondamentale è uguale al numero di protoni, la massa di un atomo è compresa tra 10 alla meno 24 e 10 alla meno 22. L'unità di massa atomica è uguale a 1,996 per 10 alla 23 grammi, moltiplicato un dodicesimo, che sarebbe la massa del carbonio 12, che è uguale a 1,6605 per 10 alla ventiquattresima grammi dalton. Quindi, praticamente, un'uma, cioè un'uma, da che cosa è data? È data dalla massa atomica del carbonio 12, è data da un dodicesimo dalla massa atomica del carbonio 12, che è pari a 1,6605 per 10 alla meno 24 grammi dalton. La costante di Planck, la costante di Planck H è uguale a 6,026 per 10 alla meno 34 joule secondi, che sarebbe, appunto, un quanto, l'energia di un quanto di luce, che è dato da E uguale HV. E, che sarebbe l'energia di un quanto di luce, uguale H per V, che sarebbe H la costante di Planck, per V che rappresenta la frequenza. I numeri quanti ci sono tre, numero quantico principale, numero quantico secondario e numero quantico magnetico. Il numero quantico principale si india con N, numero quantico secondario con L e numero quantico magnetico con M. Poi, sempre nel formulare, abbiamo la carica nucleare efficace, ZEF, che significa carica nucleare efficace, che è data da Z, numero atomico, meno Q costante di schermo, e quindi abbiamo la ZEF, che sarebbe la carica nucleare efficace. Poi abbiamo l'affinità elettronica, si indica con A grande e grande, I energia di ionizzazione, delta X differenza di elettronegatività, esempio X ossigeno uguale a 2,44, X idrogeno 2,2, la differenza di elettronegatività da che cosa è data? Da 3,44 meno 2,2, è uguale a 1,4, delta X minore di 0, apolare, delta X uguale a 0, omopolare, delta X maggiore di 2, covalente polare, diciamo che più di 2, fino a 2, da 0,4 a 2. Allora, poi andiamo a vedere un attimo le geometrie trigonale, angoli legami di 107,3, geometria tetraetrica, angoli di 100, quindi geometria trigonale, angoli di 107,3, geometria tetraetrica, angoli di legame 109,5, geometria lineare, angoli di legame 180 gradi, geometria dell'acqua 105. AXN e EN, A uguale atomo, centrale XN con numeri degli atomi, ad A e N, coppie di elettroni liberi non legati all'atomo centrale, cioè parliamo di Lompier. Un dipolo ha un momento angolare definito da Q, carica dei due poli e da una distanza tra i due poli, quindi è data il prodotto di Q per D. legge isoterma, temperatura costante, la legge isoterma è temperatura costante, legge di Boyle, temperatura uguale K, dove P per V uguale K, dove P più 1 per V1 è uguale P2 per V2 uguale K. Legge isobora, pressione costante, che è l'Ustac P uguale K, cioè quindi la pressione, pressione costante, quindi legge isobora, pressione costante, legge isoterma, temperatura costante, dove P uguale K, dove Q1 fratto V1 uguale T2 fratto V2, quindi la temperatura fratto il volume, Q1 fratto V1 è uguale T2 fratto V2, la temperatura è direttamente proporzionale al volume. Poi abbiamo la legge isocora di Avogadro, cioè il volume di un gas a pressione costante, a temperatura costante, direttamente proporzionale al numero di moli. Poi abbiamo l'equazione dei gas reali, dove PV uguale R per N per T. Poi abbiamo la molarità, che cos'è? Numero di moli di soluto fratto il volume, un litro di soluzione. La molarità, invece, è dato numero di moli di soluto fratto un chilogrammo di solvente. La percentuale in peso, massa soluto, massa soluzione. Percentuale in volume è uguale volume soluto, volume soluzione. Frazione molare è uguale X, che rappresenta la frazione molare, è uguale mole di soluto fratto mole di soluto più mole di soluzione. Poi abbiamo la legge di Rolth, la variazione di P, variazione di pressione, meno la pressione iniziale, soluzione pura. Poi abbiamo P uguale pressione con aggiunta di soluto, ΔP meno pressione iniziale, meno P. ΔP uguale P, pressione iniziale, meno la concentrazione, la frazione molare di A, meno la frazione molare di A. Diciamo che qui concludiamo il formulario per poi entrare nel vivo della questione e quindi degli argomenti da trattare in modo specifico nell'esame.